Scopri il tuo fattore V. Scegli anche tu il marchio Valtellina. Perché la qualità di un luogo si costruisce insieme. Perché un unico marchio di qualità garantisce la riconoscibilità dell'eccellenza. Perché l'unione fa la forza. Anche noi abbiamo scelto il marchio Valtellina. Abbiamo fatto del nostro latte un marchio di qualità. Per informazioni, telefona allo 0342 52 72 36. Un incaricato della Camera di Commercio di Sondrio sarà a tua completa disposizione.